Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti nei disegni delle piccole sole celeste, che bel pancione avete fatto il risultato esilarante. Michelle Hunziker ha portato a pranzo fuori le sue tre figlie, Aurora Ramazzotti con sole e celeste trussardi. La conduttrice svizzera sta quindi trascorrendo la domenica in famiglia e proprio pochi minuti fa ha postato una storia in cui le sue due bambine più piccole disegnano il pancione della sorella maggiore su un foglio di carta. Michelle sulla storia ha scritto, pranzo creativo con tanto di emoticoncole lacrime dalle risate. Michelle Hunziker ha filmato le figlie sole e celeste mentre fanno una specie di ritratto alla sorella più grande Aurora, incinta del suo primo bambino. I disegni sono molto teneri e infatti, non appena la figlia di Eros Ramazzotti li vede, li osserva con uno sguardo dolce, proprio materno. Anche Michelle mentre filma sembra sorridere del pensiero che hanno avuto sole e celeste che presto diventeranno zie. Michelle Hunziker si sta preparando a diventare nonna, tra poco infatti, nascerà il suo primo nipotino e lei è più volte dichiarato di non vedere l'ora di poterlo stringere tra maggiore sui braccia. Michelle Law Alonso Alonso Grazie.